seduta piatta per piazza affari e per le borse europee dopo il nuovo strappo a rialzo di ieri sono i titoli di stato oggi a tener banco lo spread tra btp decennali e bun tedeschi scende 84 punti base segnando i minimi da settembre 2008 per poi chiudere quota 89 con un rendimento dell'1,13 per cento mentre il tesoro ha segnato tutti i 2,5 miliardi di euro di btp a tre anni col tasso al nuovo minimo chiusura debole per i listini finanziari di parigi francoforte madrid il rialzo invece londra più 0,59 per cento e lisbona a milano occhi puntati su generali che dopo i conti perde il 4,40 per cento il leone di trieste ha chiuso il 2014 con un utile netto di 1,67 miliardi di euro in calo rispetto all'esercizio precedente tra i ribassi maggiori del listino principale anche stm g tech e ub banca dopo l'approvazione a montecitorio delle norme per la trasformazione in spa di alcune popolari il resto del comparto bancario protagonista dei recenti rally a pezzi affari si muove in territorio positivo bpm guadagna oltre 4 per cento ma le rosa del listino principale per azimut più 4,99 per cento dopo i conti il leggero rialzo saipem più 0,42 per cento che ha sfoggiato i dati del 2014 il nuovo piano strategico realizzi invece su rcs perde oltre il 7 per cento la società editoriale archiviato il 2014 con una perdita dimezzata rispetto allo scorso anno